Oggi, 7 aprile, ricordiamo Giovanni Battista de la Sal che fu il fondatore delle scuole cristiane. Noi ricordiamo i fratelli delle scuole cristiane. Ieri avevamo ricordato Don Rua, il successore di Don Bosco, il primo salesiano. Battista de la Sal vive due secoli prima. Non siamo nel Torino, nell'Italia risorgimentale, ma siamo in Francia. Siamo nel XVII secolo. Siamo alla vigilia del secolo dei lumi, dell'illuminismo. E Battista de la Sal non può far altro che constatare la profonda ignoranza e il profondo abbandono in cui vivevano tanti e tanti e tanti giovani. Ma con Giovanni Battista de la Sal, io direi, abbiamo anche l'occasione per riflettere sulla scuola, che non diventa più solamente un luogo di istruzione, ma dovrebbe essere un luogo di educazione, di formazione, di crescita. E dovremmo anche, perché altrimenti non è possibile sviluppare questa riflessione, valutare l'importanza della legge dello spirito. E in riferimento alla legge dello spirito, quanto è importante la legge, ma quanto sia poco importante la legge senza lo spirito, questa riflessione vale per qualsiasi istituzione, ma in modo particolare per quelle istituzioni che si occupano dei più deboli, dei bimbi, dei giovani, come ho detto tante volte, dei vecchi e degli ammalati, dei poveri. Ecco, vediamo brevemente la vita di Giovanni Battista de la Sal, vediamo quali sono le sue scelte, il suo programma, e poi rifletteremo un momentino su quello che è la scuola oggi, e su quello che spesso sono le istituzioni oggi, con tante, 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 tante leggi. Ma molto spesso la legge uccide, se è priva di spirito. Giovanni Battista, arriva da una famiglia piuttosto numerosa, primo di dieci fratelli, è un aristocratico. la sua infanzia, come dice la sua vita, passa in una condizione abbastanza comune, gioca, è pio, prega, fa la comunione, la cresima, il battesimo, insomma, segue la scuola con diligenza e ordine. però già da giovanissimo Giovanni Battista pensa che la sua strada sia quella di diventare religioso. di nuovo l'importanza di un direttore spirituale, oggi, e continuerò a ripeterlo fino alla nausea, i direttori spirituali non ci sono più, perché non ci si vuole più impegnare, è evidente che poi i giovani sono abbandonati a se stessi, perché non hanno più il prete, non hanno più i genitori, non hanno più degli insegnanti che siano educatori, non siano solo insegnanti, è evidente che tra questo vuoto educativo e i cattivi esempi che arrivano da ogni parte, questi giovani rimangono così, privi di un orizzonte, privi di un punto di riferimento. Qui di nuovo un confessore, Nicola Roland, che segue e dà al giovane Giovanni Battista una proposta di vita, nella carità sempre. E questa strada si conclude nel 1678 quando Giovanni Battista diventa sacerdote. e a parte alcuni compiti che sono abbastanza passeggeri, troviamo subito l'arcivescovo di Reims che affida a Giovanni Battista le scuole parrocchiali. Io ho avuto occasione di parlare altre volte delle scuole parrocchiali. Guardate che le scuole parrocchiali, io vivo in una zona abbastanza dispersa, tra i monti, ma parlando con persone anziane, tutti mi dicono come il parroco di un tempo, quando non c'erano ancora le scuole elementari, quando non c'erano ancora le scuole medie, radunava i bimbi, i ragazzi in parrocchia e impartiva lezione. Quindi la parrocchia è sempre stata che che ne possono dire i laicisti, perché io ce l'ho sempre conto questi laicisti che sono ciechi e privi di senno, contrariamente a quello che dicono i laicisti, la parrocchia è sempre stata un centro di istruzione. Perché senza istruzione non si può essere liberi. Attenzione però che l'istruzione molto spesso anche lì c'è la double face. c'è un'istruzione sincera che ci conduce alla libertà, alla possibilità di scelta, c'è un'istruzione che è parziale, menzognera e allora a questo punto noi diventiamo ancora più asserviti di prima perché abbiamo una prospettiva e una conoscenza completamente deformata della storia e degli avvenimenti. allora il vescovo, vedete l'arcivescovo che vuole delle scuole parrocchiali e affida questo impegno a Giobba Battista della Salle che però con gli anni sviluppa questa idea e arriva a fondare la congregazione dei fratelli delle scuole cristiane fino a proporre delle scuole professionali delle scuole solo di domenica perché molto spesso durante la settimana i ragazzi dovevano lavorare pensate quindi anche all'impegno al sacrificio di questi giovani di allora oggi oggi guai dare dei compiti di sabato di domenica guai appesantire le vacanze di Natale guai appesantire le vacanze di Pasqua guai impegnare gli alunni durante il periodo estivo noi non stiamo educando dei ragazzi si dà solamente adito ai passatempi si dà adito soltanto agli hobby si dà adito solamente alle cose inutili l'istruzione la vera istruzione è importante quindi anche se uno si trova in vacanza specialmente oggi che i giovani non hanno dei lavori da affrontare non devono andare in fabbrica stiamo parlando delle nostre zone del mondo occidentale non devono fare i muratori non devono andare a mungere la vacca non devono pensare alle galline o alle pecore ma sono liberi tutto il giorno non dare nessun impegno è la strada più diseducativa che si possa intraprendere questi ragazzi dopo aver lavorato tutta la settimana di domenica cercavano un'istruzione e Giovanni Battista della Sala offriva questa istruzione a ragazzi incontrati per strada proprio per toglierli dalla strada proprio per renderli indipendenti perché la libertà è tale nella misura in cui si è indipendenti dal bisogno pensate poi a questa azione generosa è un uomo aristocratico un uomo ricco ma è povero nel cuore un anno durante un inverno particolarmente rigido distribui tutti i suoi veri e i poveri ecco la povertà che è segno di perfezione è chiaro che non tutti siamo chiamati a gesti di questo genere però c'è chi ha un numero di talenti particolarmente copioso e che può dare anche una risposta di questo genere Gesù se vuoi essere perfetto vendi tutto dallo i poveri e seguiti così fa Giovanni Battista della Sala dunque però noi dobbiamo e questa è la cosa direi più importante che dà un'idea di cosa si intenda per educazione Giovanni Battista della Sala vuole realizzare questa congregazione per una ragione ben precisa perché avrebbe potuto continuare a gestire le scuole parocchiali come venivano gestite allora vediamo di leggere la congregazione perché si accorse che quello che mancava di più ai ragazzi erano dei maestri validi l'insegnamento per della Sala diventa una missione e secondo Giovanni Battista della Sala gli educatori dovevano esclusivamente dedicarsi ai propri studenti ideo quindi un nuovo tipo di insegnante un docente che prende i voti non necessariamente che diventi sacerdote o che si accosti all'ordine del diaconate o del sacerdozio rinuncia a sposarsi e a formare una famiglia cioè c'è una consapevolezza oggi siamo completamente alla deriva perché arriviamo al punto di trovare delle donne che vogliono mettere al mondo dei figli senza padre partono già con questa idea abbiamo delle coppie omosessuali che stiano pure per carità nessuno trova loro di dire ma che vogliono comunque è un figlio privando evidentemente il figlio di una presenza sia maschile che femminile di un papà e di una mamma cioè si parte da dei principi che sono assurdi oppure delle famiglie divise dove il padre o la madre in adulterio abbandonano i figli a se stessi ancora peggio no? ancora peggio perché c'è anche un cattivo esempio oppure dei genitori che pensano solo alla carriera al lavoro e i figli sono abbandonati a se stessi poi improvvisamente quando questi ragazzi hanno 15 16 18 anni fanno le loro scoperte scoprono che sono dei delinquenti scoprono che sono dei disadattati scoprono che si danno alla droga cioè noi abbiamo delle famiglie completamente fuori fuori da ogni contesto ma non dico cristiano io parlo di un contesto puramente civile perché la famiglia è la prima educatrice allora la sala cosa comprende specialmente allora dove le famiglie erano molto numerose comprende che chi è impegnato in una famiglia e deve pensare al pane al comparatico dei propri figli e magari dei figli e ne ha 5 6 7 8 9 10 era la situazione di allora come avrebbe mai potuto fare come avrebbe potuto mai essere un buon insegnante ecco allora che la congregazione deve essere composta secondo della sala da uomini liberi dalla famiglia ma non per una per un celibato così astratto perché spesso non si riescono a capire queste cose no chiesa cattolica vuole che i preti siano celibili vuole che i preti cattolici siano celibili perché l'impegno di seguire le anime allo stesso tempo seguire una famiglia sono tali e così poderosi questi impegni che uno esclude l'altro far due cose così impegnative si rischia di far male tutte e due quindi l'insegnante doveva essere libero da preoccupazioni familiari ed ecco perché nasce la congregazione no? e si mise quindi alla ricerca di giovani maestri ai quali propose una forma di vita consacrata a Dio pur rimanendo questi laici però si dedicavano pienamente all'educazione adesso terminiamo terminiamo il racconto della vita di quest'uomo e poi riprendiamo questo argomento ebbe dure prove no? perché di fronte a questa richiesta quanto mai severa molti fratelli si allontanarono poi come al solito ebbero a mancare i mezzi ma come la penitenza con la preghiera con la confidenza della Vergine sotto il cui patrocini aveva posto la sua congregazione superò in difficoltà sia nelle prosperità come nella versità soliva dire Dio sia benedetto questa confidenza confidenza in Dio abbandonarsi alla sua volontà consapevole che i più grandi disegni di Dio su di un'anima non si compiono che per mezzo della croce perseverò nel bene e con gran tenacia difesero per la sua resistendo alle prove del maligno alla fine anche Giovanni Battista della Salle lascia questo mondo ma quando lo lascia già le sue case erano 40 e 274 i fratelli impegnati nell'insegnamento vediamo ora alla luce anche delle sacre scritture su che cosa puntava la Salle parliamo dal Siracide 51-23 dove c'è scritto avvicinatevi voi che siete senza istruzione prendete dimora dalla mia scuola della Salle punta innanzitutto all'istruzione poi dall'istruzione si passa all'educazione ma attenzione non si arriva all'educazione se non si passa attraverso l'istruzione l'educazione tra le altre cose si serve dell'istruzione ma poi le scritture rivelano alla Salle qualcosa di molto più importante che è la legge dello spirito vedete le leggi sono importanti 1 Timoteo 1 8 ci ho scritto certo noi sappiamo che la legge è buona se uno ne usa legalmente nessuno mette in dubbio questa verità guai se non ci fossero le leggi è evidente che Paolo la stava facendo riferimento alla legge mosaica ma il ragionamento di Paolo può essere applicato anche alle leggi umane perché ma perché le leggi umane sempre che vengono fatte col cuore nascono da una necessità sociale e sono prodotte dalla nostra ragione chi fa delle leggi col cuore e con buona intenzione cerca di far funzionare meglio la società la legge quindi è necessaria però attenzione se ci si ferma esclusivamente alla crosta della legge e non si va a scandagliare la profondità della legge e lo spirito della legge e quello che vuole ottenere la legge la legge non serve più a nulla vediamo un po' Romani 2 13 perché non coloro che ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio ma quelli che mettono in pratica la legge saranno giustificati non basta ascoltare la legge non basta seguire la legge solo nella parola è necessario mettere in pratica il suo spirito ma attenzione di nuovo in Colinzi 2 10 ma a noi le ha rivelate per mezzo dello spirito lo spirito infatti scruta ogni cosa anche la profondità di Dio lo spirito che ci dà l'intelletto ci permette di cogliere le profondità della legge attenzione ripeto qui Paolo sta parlando della legge mosaica però la stessa cosa noi possiamo utilizzare lo stesso sistema può essere usato da noi nella quotidianità delle leggi di uno stato e allora scopriamo che lo spirito che dà la vita lo spirito di una legge è la vita non solamente la lettera e scrutare una legge è coglierne lo spirito vediamo che cosa vuol dire questo quando in Manzoni Renzo si rivolge al dottore Azzecca Garbugli e il dottore Azzecca Garbugli gli dice guarda tu a me devi dire la verità poi ci penso io come avvocato a rimaneggiare il tutto e a far sì che l'innocente diventi colpevole colpevole l'innocente cosa fa la dottora Azzecca Garbugli utilizza esclusivamente la lettera l'aspetto puramente formale della legge non lo spirito della legge è quello che è avvenuto presso la nostra scuola italiana negli ultimi 50 anni le leggi avevano un obiettivo molto importante quello di far sì che la scuola classista gentiliana venisse superata per aprirsi alle necessità di tutti gli allunni e tutti i giovani dare a tutti i giovani e tutti i ragazzi le stesse possibilità purtroppo però questa scuola si è o almeno coloro che hanno cercato di portare all'esecuzione la legge l'esecutivo ha puntato esclusivamente alla lettera non allo spirito perciò bastava e basta tuttora che ci siano degli allunni che escono col 6 se poi quel 6 è meritato non è meritato poco importa il 6 secondo coloro che seguono la lettera giustifica tutto e mette a posto la coscienza non è così e già più di una volta ho insistito sulle mie lezioni di didattica il compito primario è quello di fare in modo che l'allunto raggiunga attraverso il recupero il 6 reale non un 6 politico o un 6 d'ufficio questo nella scuola italiana non è avvenuto perciò non solo è venuta meno l'educazione che è un punto e una vetta molto più alta ma è venuta meno la stessa istruzione e senza una istruzione adeguata non si può neanche sviluppare un'educazione adeguata purtroppo nella prospettiva umana questa visione spesso viene a mancare perché lo dice Paolo lo spirito di verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce voi lo conoscete perché egli dimora presso di voi e sarà di voi quando le parole della Bibbia ci dicono guardate che il Signore non vuole sacrifici vuole i cuori vuole lo spirito e questo spirito non è vendibile come pensava che lo fosse Simone un mago che vedendo che lo spirito veniva conferito con l'imposizione delle mani degli apostoli offre loro del denaro dicendo date anche a me questo potere perché a chiunque io imponga le mani egli riceva lo spirito santo il vero compimento dello spirito è l'amore pieno compimento della legge è l'amore che viene liberata dello spirito è per questo che Giovan Battista della Sal riesce in qualche modo a costruire questa scuola questa scuola che è una scuola alternativa è un percorso alternativo che solo il cristiano può percorrere qual è il limite oggi di queste congregazioni cristiane che stanno diventando delle scuole d'elite per cui l'intellettuale sci che può dire i miei figli vanno dai fratelli ma in questo modo i fratelli hanno i fratelli delle scuole cristiane come possono essere i sanesiani come possono essere i gesuiti come possono essere tantissime altre scuole cattoliche hanno veramente espletato lo spirito del loro fondatore che è uno spirito che a sua volta si riconduce alla buona novella al Cristo io penso proprio di no spesso in questi istituti vengono chiamati insegnanti che non sono neanche preparati che non vengono resi edotti del cuore dello spirito del fondatore e allora la scuola cattolica si riduce una brutta coppia o una bella coppia della scuola di Stato dove di nuovo si pensa attraverso una applicazione formale della legge di aver reso anche quello spirito di cui invece Giovanni Battista della Sal voleva animare l'educazione dei propri figli ecco allora la legge e lo spirito la legge è importante se non c'è legge è evidente ma questa legge deve essere colta con lo spirito col cuore uno deve vedere effettivamente a che cosa mira la legge oggi purtroppo e questi sono stati gli ultimi anni poi gli ultimi anni sono stati veramente qualcosa di roccambolesco esco da incubo io ho visto i dirigenti scolastri della nostra scuola italiana che si sono sempre occupati ed esclusivamente occupati dei formalismi la firma no? la legge dice così l'abbiamo fatto ma poi quell'aver fatto ha veramente espletato il significato della legge quindi se già questo purtroppo è spesso bypassato dimenticato della scuola pubblica purtroppo anche dalla nostra scuola cristiana non solo si ricadi un formalismo meschino e gretto quale è quello della scuola statale ma la scuola privata la scuola cattolica cristiana privata dimentica anche lo spirito dei propri fondatori dobbiamo recuperare lo spirito e come si recupera lo spirito è conoscendo i fondatori chi è Giovanni Battista della Sala parte festeggiarlo una volta all'anno che cosa ha voluto fare Giovanni Battista della Sala che cosa ci ha insegnato innanzitutto ci ha insegnato che il ruolo dell'insegnante è un ruolo così importante così importante così esclusivo che addirittura ha consigliato i propri figli di non sposarsi oggi le cose sono cambiate le famiglie non sono più così numerose ci sono degli altri in essi e connessi alla situazione però è necessario che i docenti di queste scuole cristiane siano alimentati dallo spirito dei fondatori grazie a tutti